16 gruppi di cittadini radunati per quartiere, una pagina Facebook seguita da oltre 6.000 persone, circa 130.000 letture mensili, sono i numeri di Ravenna, SOS e Chat, Aiutiamo le Forze dell'Ordine, il gruppo di sicurezza partecipata che copre i quartieri della città bizantina e il forese, con segnalazioni di reati o di comportamenti sospetti. Noi siamo a supporto delle forze dell'Ordine, insomma occhi e orecchie per loro, non sono gruppi di passatempo, non sono gruppi di squisizioni vari, ma esclusivamente di segnalazioni. Non esiste la possibilità di elargire dei propri commenti, di fare polemiche. I referenti adesso partecipano al programma Sicura, in collaborazione con Comune di Ravenna e Polizia Municipale, per implementare la piattaforma web su cui finiranno tutte le segnalazioni. I referenti che hanno sottoscritto il programma Sicura, nato sull'ossatura di Ravenna, SOS e Sociale e Sicurezza Forese Sud, tali referenti stanno frequentando gli uffici dell'APM e coadjuvati dall'azienda softwareista per curare e sviluppare la piattaforma web che sarà con lei deputata ad accogliere le segnalazioni provenienti appunto dai referenti che hanno sottoscritto tale programma.